Vota in chiusura di 1.56 per la favorita Silvia FP, Puledri agli ordini dello starter, rimane attardato il 5 di Sabine Henry, gli altri a rete, arriva il mezzo meccanico, volta accata là la Silvia FP, e allo stacco è proprio Silvia FP con all'interno Susa Daghi che cerca di portarsi a comando, di fuori c'è il numero 4 di Simon Fornis e Nicola Merola che cercano di tirare un po' l'elastico per forse per creare qualcosa lì in corda, si crea un varco parcheggia, Nicola Merola si mette così in seconda posizione della corda, quindi Silvia FP che precede il 4 di Simon Fornis, poi Susa Daghi percorsi esterni, avanza il numero 5 di Sariener, si arriva così al completamento del primo quarto di gara, percorso dal leader in 31.8. Cavalli al passaggio con sempre la buona guardia del numero 2 di Silvia FP e Massimo Andreani, si avventura all'esterno il 5 di Simon Fornis così che il ritmo aumenta un po', di sotto c'è sempre il numero 4 di Simon Fornis con all'esterno Sariener, i 600 percorsi in 46.1, ora può mettersi in corda Giordano Battistini perché si è creato un gap, perché Susa Daghi non riesce più di tanto a seguire, il primo mezzo miglio in 1.2.1 con Silvia FP all'avanguardia, sulla retta opposta Silvia che stacca di 2 o 3 di margine nei confronti del 4 di Simon Fornis e gli altri che seguono con il numero 1 di Susa Daghi che si affaccia all'esterno, chilometro percorso in 1.18.5, buono il ritmo tenuto dalla leader, ora Massimo Andreani che leva il cuffino estraibile, si appresta ad imboccare l'ultima piegata con Silvia FP, lì sotto c'è sempre il 4 di Simon Fornis, i due staccati di 3 o 4 lunghezze nei confronti del gruppetto capeggiato dal 5 di Sariener, mentre intanto l'imbocco del retta d'arrivo con la favorita al comando, mentre un altro paletto in 15.9. Silvia FP che si appresta ad imboccare l'addirittura d'arrivo in avanti, lì sotto c'è il 4 di Simon Fornis, Silvia FP che cerca di venire a chiudere in bello stile la partita, Silvia FP e Massimo Andreani che vengono a vincere il confronto del 4 di Simon Fornis, terzo il numero 5 di Sariener, 2.6. Il totale è 1.18.5 appena abbondante, dovrebbe essere la media alla chilometro 2.45 per quello che riguarda il probabile ufficioso ordine d'arrivo, il successo per la favorita Silvia FP, questa uronometro e giacinta FP, con Massimo Andreani nella triplice veste di proprietario, guidatore e allenatore 1.55 al tot, tutto dalla prima di Civita Noma che in linea alla regia.